yohoho a tutti come vi avevo detto quando cominciavo a fare un po di scontri quelli un pochettino più complicati facevo un altro video di pixel piracy e questo che sto per fare adesso non so com'è se è difficile ma penso di sì perché è uno contro un legendary enemy da 10.000 che intanto per arrivarci giù una nave eccoci qua andiamo non so quello che succederà se se muoio o non muoio la barca fa abbastanza schifo perché spero che questo abbia una barca strafiga così ma la frego anzi no come dicono i pirati la prendo in prestito la prende in tanto come avete visto ho aumentato l'equipaggio a 16 sono messo un po di pescatori così vendo il pesce per comprarmi il room perché ho notato che la cosa più importante di questo gioco è avere il room sulla barca 30 così vai pronti legenda riuscire a incontrere cosa stiamo facendo capito engage them cosa vuole più grossa e che spadone che ti ah mi abbordano loro perfetto eh guarda che bella accoglienza oh vedete stai volato un altro vengono loro e un altro che vola altri due che muoiono eh se continuano così eh ok mettiamo un po c'è questa che ce n'è uno che sta quasi per morire eh via diamogli una cura veloce toh chiapati due banane ok adesso cominciano anche a scappare ne ho un altro basso eh questi sono quelli nuovi che ho preso da poco oh questo no il mio mi affoga no perché tutti hanno nuotare ah ah e un po questo è messo un 8% si è messo abbastanza male ok vediamo e li ho rimandati a casa oh c'è uno che sta sanguinando però dei miei aspettate che lo curo e poi si madonna che casino chi è che è ah ecco de angelo curiamo così siamo a posto e vediamo un po vediamo e adesso li assalto io e adesso cosa fate ma non mi muovono bene sai che ho fatto un po una cosa facciamo così curiamoli come volano eh adesso capitano contro capitano eh questo spadone maledetto vedete che arrivano gli altri po 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 è veramente bella questa nave eh non hai visto che violenza eh cattura però prima mi devo prendere devo aprirmi tutti i forzieri sono curioso di vedere sembra che mi ha droppato l'arma eh diciamo così tu devi attaccare questo tu attacchi questo tu questo qua tu attacchi questo metto questo qua sembra una cavolata eh tirar giù distruggere queste piccole anfore però danno esperienza eh quindi mi serve mi tocca però per curiosità vediamo subito quest'arma gigante qui qua questo uff quattro danno aggiudicata capitano hai un'arma nuova sembra una spada di man boom perfetto adesso me la frego la nave perfetto ho la mia nave nuova adesso andiamo aspetta facciamo così una bella camminata di salute con un po' di aspetta boom aggiudicato cattura boom vai che bella la mia nuova nave eh pure con i ritratti eh 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 adesso un'altra cosa che ho visto che che bisogna fare subito vabbè ovviamente a parte mettere adesso per adesso lo piazzo così il room eh vi faccio vedere un'altra cosa che sono diciamo che ho imparato in questi giorni adesso piazzo subito la barca a posto eh perché ho visto ho notato che vabbè eh una cosa che fa scendere tantissimo il morale che è la barca sporca allora cerco di mettere sempre tutte le cose dove si il room i barilli col cibo il room li metto tutti al piano di sopra o comunque nel ponte più in alto dove così stanno tutti i pirati stanno lì e bevono in fretta mangiano cioè hanno tutto a portata di mano e soprattutto si sporcano la nave viene pulita subito adesso vi faccio vi faccio vedere come qui c'è c'è gente vabbè dopo l'ammazzo oh oh ah no faccio così vedete ship setup e metto ah oh still around vabbè vi devo ammazzare eh queste amazzoni dai è un po' scomoda come nave adesso poi gli metto una scaletta qua perché se no se ogni volta devono fare tutto sto giro è un casino però è gigante beh attenzione le scimmie con le banane eh 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 che urli ok posso andiamo un po' ship setup perfetto adesso vi faccio vedere io prendo metto tre barili e tre barili adesso poi devo prendermi anche un casino di room faccio così almeno quando quando l'equipaggio sta sta sulla nave stanno tutti su ma adesso aspetta facciamo sai che mi da il morale questa statua tribale speriamo ah no sono usciti i nemici vabbè sono anche durati tanto o giusto per cui diciamo vabbè non è fa un male dalla madonna sta spada eh ah 40 andiamo contro i gatti e anche contro i gatti è forte sì ma perché mi seguono dai tutti sulla nave eh mettiamogli facciamo così se lo tolgo anche perché se no pulirle è un casino eccomo visto che bello oh spero vi sia piaciuto l'assalto alla nave è durato poco però non pensavo di aver la ciurma così forte adesso proverò a fare gli altri video sui sui leggendari oh iscrivetevi al canale lasciatemi un commento anche se vi ha fatto schifo lasciatemi un commento così almeno provo a migliorare eh al prossimo video e ciao ciao ciao